Domenica, quanto siete belli, quanto siete stati bravi. Non diamo diritti, non abbiamo niente, ma noi risponderemo con una grande rivoluzione, ma una rivoluzione cantiana, una rivoluzione non violenta, con azioni continuate, che faccia di modo di far capire a questa gente che noi esistiamo. E' sti sucri, esti sacri, esti sacri antichi e più. E' sti sucri, esti sacri antichi e più. E' sti sucri, esti sacri, esti sacri, esti sacri. Applausi. 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 Applausi.